25 aprino, aprile 20-24 festa della liberazione al boschetto letto, i fonti il console, un'area di Enzo con DG Filaneo figlio Ring, Carmelita un saluto a Gianni che oggi non è con noi ma ci sarà e un saluto al DG Filaneo Federico Fidaleo Junior un saluto al DG Filaneo e tu non sei leggero sinceramente sinceramente